E' sempre un piacere ritrovare un volto amico e un attore del quale io sono fan, ma lui ormai lo sa, Giovanni Calcagno. Ciao Giovanni! Ciao Antonella e ciao a tutti i nostri radioscoltatori che risento e rincontro sempre con grande piacere. Noi ancora di più, anche perché direi che io sono già pronta per sabato, tanto più che questo possiamo definirlo il tuo cavallo di battaglia principale. Ma sì, stavo pensando di dirti proprio sta roba qua, nel senso che è uno dei miei cavalli di battaglia, che fortunatamente c'è una bella scuderia, però credo che la dicitura cavallo di battaglia per Orlando sia veramente perfetta. Ci sta tutto! Nel senso che proprio non faremo altro che parlare di battaglie e ahimè anche di tristi massacri, che però sotto hanno degli sviluppi poetici e anche politici molto importanti che sono quelli che mi hanno spinto a raccontare questa vicenda. Diciamo che la canzone di Orlando nella vulgata è conosciuta, è un argomento che abbiamo tutti nel nostro DNA, però non sempre viene sottolineato quanto quel testo faccia riferimento a uno scontro di culture, forse il primo scontro fra civiltà, documentato perlomeno. Dunque, sicuramente è un testo che è importantissimo e fondamentale perché quando uscì nell'undicesimo secolo servì alla propaganda cristiana per permettere al Papa di poter tranquillamente indire la prima crociata. Questa propaganda è una propaganda feroce perché i musulmani non sono dipinti semplicemente come cattivi e nemici, ma sono dipinti addirittura come adoratori del diavolo, insomma di trinità infere, quindi c'è una mistificazione molto importante che poi giustifica degli atti veramente trucidi che sono dei massacri e delle vendette. Ecco, e fra l'altro noi che siamo siciliani abbiamo secondo me il dovere di riportare tutto sul piano della verità perché noi invece ai cosiddetti saraceni dobbiamo veramente tanto. Sì, stavo pensando, la cosa che fa ridere, che fa sorridere da questo punto di vista è che l'opera dei pupi che trova la sua consacrazione nella nostra terra nasce in una terra che in quell'epoca era araba, era saracena e quindi è un miscuglio di contraddizioni che poi fa parte anche del nostro DNA. La schizofrenia del siciliano mi viene da dire, no? Assolutamente, sì, infatti. E quindi ce la possiamo godere anche con maggiore consapevolezza. Ma tu però in questa canzone di Orlando ho capito che hai voluto dare un significato un po' diverso, calato diciamo nella contemporaneità. Dunque, la canzone di Orlando per me parte innanzitutto da un gusto per la narrazione della morte di Orlando. La morte di Orlando mi veniva narrata, e me lo ricordo ancora, da mio nonno, proprio in giornate belle di primavera come queste che ci stiamo godendo in questi giorni e io ricordo ancora queste immagini narrate del sangue che usciva dalle orecchie per lo sforzo di suonare il suo corno, l'olifante, questa solitudine in questo deserto di morti, in queste montagne piene di sangue, di una battaglia ormai finita. Dunque c'è, come dire, un sapore epico che è imprescindibile per me. Poi nel corso degli anni mi sono reso conto che accanto a questo evento enorme, meraviglioso, che è il punto più alto della canzone di Orlando, cioè la preghiera di Orlando che abbandona la propria vita, quindi un uomo che lascia la propria esistenza, e questo è un punto altissimo indipendentemente da tutto quello che gli sta dietro, c'è però qualcos'altro, c'è un significato, un insegnamento, un paradigma che può aiutarci a leggere una realtà che oggi come oggi, più che mai, per esempio nella guerra dell'Ucraina, ci permette di essere più confusi che persuasi, come si dice, no? Esattamente, ma perché siamo in balia inevitabilmente, intanto non abbiamo delle fonti dirette, ecco, partiamo dal presupposto che per farsi un'idea corretta nella vita in generale su qualunque argomento bisognerebbe avere delle fonti dirette e poi farsi il proprio punto di vista. Noi di fatto non abbiamo delle fonti dirette, sono sempre filtrate da un punto di vista, e il punto di vista, si sa, è un punto di vista, ma non il punto di vista. Sì, direi che questo è ovviamente importantissimo quello che dici. D'altra parte, il gioco dei buoni e dei cattivi, sappiamo bene che è un gioco che non funziona. No. Nel senso che l'uomo probabilmente è uguale da tutte le attitudini, da tutte le parti, agli stessi problemi interiori da combattere in ogni parte del pianeta. E dunque questo punto di vista, che probabilmente, forse può essere considerato più oggettivo, può permetterci di avvicinarci a un reale senso di... avvicinarci a un senso di fratellanza e di pace. Molta cautela, nelle parole di Giovanni Calcagno, perché molta... Molta cautela perché molta consapevolezza, è questo il punto. È materia insidiosa, perché è materia umana, è come tutte le materie umane fatte di profonde contraddizioni. Giovanni, in questo periodo, ne parlavamo fuori onda, sei impegnato anche con un'opera nuova, tutta tua, vostra anzi posso dire, che è importante e che spero possa arrivare, anche perché, se io ricordo bene, la canzone di Orlando, tu dovevi metterla in scena proprio da Zoe nel 2020. Io mi ricordo perché mi ero segnata questa data e poi il Covid non ti ha permesso di metterla in scena. Quindi vedi mai che si possa anche, più avanti, godere anche dell'altro spettacolo. Allora, tu parli dell'epopea di Gilgamesh. Esattamente. In realtà c'è una grande correlazione fra tutte queste cose che tu hai appena citato. Infatti la canzone di Orlando era in programma mille giorni fa, più o meno, a Zoe, proprio nel marzo del 2020. Poi questo non è avvenuto per i fatti che ci hanno travolto, ma devo dire che quel periodo, credo non solo a me, ha fatto tanto bene, nel senso che mi ha permesso di concentrarmi su delle cose che magari avevo nel cassetto, che non avevano avuto uno sviluppo e una possibilità di essere coltivate, di essere attenzionate nel modo più giusto. Infatti nel silenzio delle colline di Piedimonte della nostra casetta, mia di Alessandra Pescetta di Campagna, è nato questo libro. Ecco, perché c'è il libro fra l'altro, che è appunto la canzone di Orlando, no, è la canzone di Orlando e l'altro libro. E sì, c'è anche l'altro libro che è l'epopea di Gilgamesh, che è diventato anche uno spettacolo che ho portato in giro fino a poche settimane fa insieme a Luigi Locascio e a Vincenzo Pirrotta per la produzione dell'Emilia Romagna Teatro e con le composizioni in video di Alessandra Pescetta. Quello è un altro pezzo del mio cuore. Che io spero di vedere presto, perché fra l'altro che trio di siciliani, cioè veramente Giovanni Calcagno, Luigi Locascio, Vincenzo Pirrotta, cioè stiamo parlando della creme della creme degli attori siciliani, anche i registi bisogna dirlo, perché Vincenzo ha esordito anche alla regia per il grande schermo, tu ti sei cimentato a teatro tante volte e poi c'è Alessandra che insomma ormai è ingrediente fondamentale, l'ingrediente segreto. Beh sì, insomma direi che ormai fra l'altro è siciliana acquisita. Eh appunto, infatti, infatti. Senti, allora intanto per il momento ci vediamo sabato, sabato alle 21 da Zo, la canzone di Orlando, Giovanni Calcagno e poi speriamo di poter parlare a breve dell'epopea di Gilgamesh. Grazie Giovanni. Grazie a te Antonella e grazie a tutti i nostri ascoltatori.